Salve a tutti, siete veramente tanti che mi state chiedendo gli aggiornamenti relativi al concorso in relazione anche alle tracce che sono uscite e io mi sono insegnato tutte le questioni, le domande che mi avete fatto ovviamente il tempo è di 150 minuti, mi avete chiesto l'unità didattica di apprendimento mi avete chiesto l'unità didattica, non ce l'ho inserita, adesso che ho iniziato un minuto fa e mi sono segnato mi sono fatto gli screenshot dei commenti che mi avete lasciato e mi sono segnato tutte le richieste allora inserirò anche l'unità didattica, però farò il tutto in maniera rapida e sintetica perché essenzialmente vi sto dicendo quali sono gli argomenti che sono usciti nei quesiti percorso didattico, valutazione, modulo didattico, didattica individualizzata e personalizzata sembrerebbe al momento che sulla legislazione è uscito ben poco, sembra che è uscito ben poco cioè non sono state fatte domande molto specifiche, per esempio non sono stati chiesti criteri compensativi o dispensativi per i DSA o come... cioè ecco un'altra cosa che è stata chiesta sicuramente è l'inclusione e dispersione scolastica ovviamente non posso dire come rispondere a tutte le domande del concorso in un unico video è impossibile, anche perché state vedendo, cioè potete osservare che molti di questi argomenti sono presenti nel canale, quindi troverete tantissimo relativamente alla valutazione troverete tantissimo materiale rispetto all'UDA, molto materiale lo trovate anche tra i commenti credo che troverete forse 90 e passa video per quanto riguarda il concorso ovviamente questo vuole essere più un video di sintesi dove in realtà tanti argomenti sono stati già toccati ben prima che iniziasse il concorso straordinario tant'è che molti colleghi che hanno fatto il concorso mi hanno ringraziato mi hanno detto che insomma si sono trovati molto bene anche per i contenuti toccati e come sono stati toccati questi contenuti e per me questo è forse l'appagamento più grande che ci possa essere io ringrazio veramente tutti, mi avete scritto dei commenti meravigliosi insomma questo mi rende felice, secondo me vale molto di più insomma di forse qualsiasi guadagno di tipo economico benissimo, allora siccome altre persone giustamente avete ragione si lamentano che vogliono andare subito al sodo perché a me piace anche insomma creare una forma di dialogo con voi non inserire solo la parte nozionistica ma creare un confronto, un dialogo, una riflessione però è anche giusto insomma andare incontro alle esigenze che più di qualcuno mi ha fatto notare in maniera molto dolce e quindi eventualmente se poi alla fine del video non ci rimane del tempo possiamo fare qualche altro commento voglio essere certo che la registrazione ci sia bene, a proposito c'è qualche docente di voi che è anche un informatico e mi ha consigliato OneNote della Microsoft piuttosto che Ink eccetera eccetera io ne ho usati veramente tanti di software però purtroppo Microsoft OneNote non mi va e tra l'altro, cioè non mi crasha, mi si chiude e tra l'altro io ho anche comprato il pacchetto Office cioè l'ho pagato, è originale, credo che sia il 2016 o il 2020 comunque purtroppo non mi va, siccome volevo adesso una lavagna molto grande preferisco usare questo programma che sicuramente non mi dà le stesse funzionalità di OneNote della Microsoft però non è male, tutto sommato, adesso parliamo un po' di tick tutto sommato mi dà discreti grafici, mi dà abbastanza possibilità anche di utilizzare il podcast di registrare direttamente dal software posso andare a modificare determinati parametri cioè è molto intuitivo, user friendly e devo dire che insomma è anche abbastanza agevole da consultare allora, sicuramente partiamo dall'UDA un'unità didattica di apprendimento sicuramente ha una denominazione relativa a un determinato argomento ovviamente specifico per quella classe di concorso ed ecco che poi io non entro in merito a questo aspetto perché le classi di concorso sono tantissime non è pensabile da parte mia svolgere, cercare di svolgere tutte le UDA per tutte le classi di concorso nemmeno ne sarei capaci sicuramente ci sono poi gli obiettivi gli obiettivi, ciò che viene prodotto se anche se viene fatto mediante UDA, laboratoriali eccetera eccetera obiettivi, prodotto, target eccetera eccetera e quindi ad esempio realizzare cosa? realizzazione di che cosa? questo è importante io aggiungerei sempre che probabilmente se avete il tempo perché il tempo è un po' la caratteristica che vedrete che vi mancherà potete fare anche un cenno alle competenze chiave e alle competenze culturali quindi competenze chiave europee trattino competenze didattiche, culturali, prerequisiti ok? didattiche ci sarà sicuramente relativamente alle competenze la comunicazione nella madrelingua l'imparare di imparare che è diventato importantissimo ci sono sicuramente anche delle osservazioni cioè sarà importante relativamente ad ogni studente fare un'osservazione, un monitoraggio e tutto questo è collegato poi alla valutazione cioè all'interno dell'UDA tutto sommato possiamo anche ritrovare la valutazione sicuramente all'interno dell'UDA possiamo ritrovare le conoscenze trovate diversi video le abilità e le competenze quindi sicuramente potete cominciare a rivederle rivedere questi concetti e prepararveli in maniera specifica per la vostra classe di concorso e per gli argomenti chiavi della vostra classe di concorso sicuramente tra le abilità ce ne sono alcune che sono comunque trasversali ad ogni materia sicuramente prendiamo per esempio ripeto prendiamo le abilità l'asse del linguaggio quindi il fatto di comunicare argomentare in maniera leggere ascoltare comprendere analizzare rielaborare produrre testi svolgere attività di riflessione eccetera eccetera quindi tutto quello che riguarda l'asse del linguaggio è sicuramente fondamentale poi sicuramente ci sono competenze sociali e civiche che sono diciamo delle questioni abbastanza standardizzate per tutte le classi di concorso cioè non è che in in una classe di concorso noi insegnanti che siamo educatori possiamo non considerare le competenze sociali e civiche quindi partecipare all'attività di gruppo confrontarsi con gli altri assumere e portare a termine i ruoli i compiti aiutare i compagni in difficoltà anche l'imparare ad imparare quindi ricavando da fonti diverse informazioni utili per i propri scopi confrontando le informazioni provenienti da fasi e fonti diverse e poi riuscirsi a fare un'idea di massima quindi diciamo sicuramente voi potete già con tutto quello che vi sto dicendo costruire la struttura della vostra UDA e poi andarla spersonalizzare per quanto riguarda la vostra classe di concorso relativamente alle conoscenze altrimenti ci rimangono male ho detto qualcosa sulle abilità qualcosa sulle competenze faccio qualche richiamo pure relativamente alle conoscenze anche qui possiamo citare delle conoscenze che sono abbastanza trasversali a tutte le classi di concorso quali la fatemi pensare scusate questo è il bello e il brutto della diretta io questa parte finché io so pure sono un testardo la parte di buia dove io penso e ragiono magari mi mi espongo anche a critiche spero insulti ovviamente non la cancello perché desidero che ci sia questa che arrivi questo messaggio di non trasmissione finta ma è una diretta è una live come a Sanremo se un cantante sbaglia ha sbagliato non è che va indietro ovviamente non è che lo dico perché io sono ai livelli dei cantanti di Sanremo sono molto molto di meno per quanto riguarda vabbè abbiamo parlato dell'asse dei linguaggi sicuramente tecniche di lettura espressiva conoscenza del lessico fondamentale quindi lessico fondamentale per rimanere proprio su questioni molto generiche la conoscenza dei codici fondamentali di comunicazione quindi dei codici quindi conoscenza dei codici comunicazionali orali verbali non paraverbali quindi non verbale eccetera eccetera all'interno della unità di apprendimento abbiamo detto e dobbiamo inserire anche i nostri goal i nostri obiettivi il focus quindi che cosa deve riuscire alla fine dell'unità di apprendimento che cosa deve riuscire a fare qual è il valore aggiunto ovviamente ve lo dico ve l'ho detto in altri video dove ho parlato solo dell'unità di apprendimento anche il tempo potrebbe essere inserito cioè ad esempio state scrivendo potete tranquillamente dire relativamente a questa unità didattica o a questa unità didattica di apprendimento che sono due cose diverse il tempo necessario tre ore tre ore di lezione con che ne so alla fine una verifica e specificate che cosa quindi dovrete anche specificare quali sono elementi fondamentali che lo studente deve saprà raccogliere alla fine dell'unità di apprendimento quindi tutte le informazioni le conoscenze i collegamenti anche con il passato familiarizzare con alcune forme di conoscenza riconoscere e descrivere le caratteristiche di quello dell'argomento eccetera 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 sicuramente se vi dicono un determinato argomento potete anche dire chi sono gli utenti destinatari ossia in quale anno si fa questo argomento a mio avviso è sempre bene dirlo se non siete sicuri non mettetelo ovviamente non vi esponete più del dovuto esponetevi solo sulle cose sulle questioni dove siete certi sicuramente potete quindi dire la fase in che periodo dell'anno scolastico può essere attivato che tipi di metodologie tipo attività laboratoriali conversazioni libere guidate attività anche ludiche per la scuola materna ma perché no pure nelle scuole superiori esperienze di cooperative learning analisi riflessioni produzione di testi quali sono le risorse umane interne esterne ad esempio insegnanti della classe associazioni presenti sul territorio gli strumenti utilizzati sicuramente inseriamoci anche gli strumenti che sono fondamentali per esempio il libro di testo che ne so videocamere lim schede strutturate cartelloni computer e alla fine di tutto sicuramente è fondamentale la questione della valutazione guarda già ce l'ho messa qui la valutazione ve l'ho detto la valutazione poi fa parte anche dell'UDA e quindi già possiamo cancellare UDA e valutazione e come avverrà in i chinere attraverso l'osservazione diretta tramite una verifica orale scritta semistrutturata risposte chiuse risposte aperte strutturata essenzialmente quindi poi sarà fondamentale anche comunicare gli esiti e alla fine di tutto la valutazione eventualmente non è fondamentale potete anche che ne so inserire un diagramma di Gant per essere originali dato che l'originalità viene permeata per evidenziare quali sono i processi temporali nei quali l'UDA viene esposta ed elaborata e comunicata allo studente sicuramente poi ci sarà anche una relazione individuale dello studente il quale poi dovrà fare cioè all'interno dell'UDA noi possiamo fare delle relazioni sullo studente però possiamo chiedere anche allo studente di fare delle relazioni relative al percorso che ha seguito i momenti di crisi che ha avuto cosa ha imparato cosa deve ancora imparare cioè chiedere allo studente di fare autovalutazione anche questo è un qualcosa che secondo me è abbastanza creativo non eccedete con la creatività però se ce la volete mettere qualcosa sicuramente male non fa ovviamente relativamente alle competenze chiave ricordate che la valutazione è avanzata intermedio base iniziale perché noi certifichiamo queste competenze quindi relativamente alle competenze sociali e civiche sicuramente un avanzato sarà uno studente che si impegna con responsabilità nel lavoro nella vita scolastica che collabora costruttivamente con tutti gli adulti i compagni assume iniziative personali presta aiuto a chi ne ha bisogno chi si trova invece in una fase iniziale sicuramente ad esempio si potrebbe scrivere che lo studente condivide nel gruppo regole di rispetto essenziali rispetto alle regole di comunità di vita rispetto tendenzialmente i tempi di lavoro e basta niente di più e diciamo che con questo mi sono preso abbastanza tempo per affrontare questo discorso che esce spesso adesso vediamo l'importanza della didattica io non scrivo didattica scrivo direttamente personalizzata e individualizzata così cerchiamo altri due punti per andare a sfoltire le richieste sicuramente la didattica individualizzata potete dire che è una il più delle volte è un'attività di recupero parto dalla seconda individuale ovviamente che viene svolto al fine di potenziare determinate abilità o conoscenze dello studente potenziare abilità anche nell'ambito di strategie sicuramente strategie questo la didattica individualizzata va a nozze con le strategie compensative quindi può essere realizzata in fasi dove c'è lavoro individuale lavoro in classe momenti dedicati solo allo studente secondo anche le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa per quanto invece riguarda la didattica personalizzata anche se ripeto troverete dei video molto più approfonditi questo è un video di recupero più oddio di riepilogo scusate la stanchezza su quello che sta uscendo sulle tracce no sicuramente potete fare riferimento alla legge del 53 2003 al decreto legislativo 59 2004 e quindi è essenzialmente una un modo di modulare l'offerta didattica quindi una calibrazione dell'offerta didattica che tiene conto della specificità ricordate queste parole specificità e unicità di ogni individuo già lo sapevate quindi ognuno ogni studente a livello personale ha dei bisogni educativi particolari che lo caratterizzano quindi bisogna considerare differenze individuali sotto il profilo quantitativo ma soprattutto qualitativo in maniera tale da favorire l'accrescimento dei punti di forza di ogni studente quindi per far uscire il potenziale di ognuno al fine di arrivare addirittura allo sviluppo consapevole delle proprie preferenze del proprio talento questo più che altro nelle fasi forse nella scuola secondaria di secondo grado ma sicuramente questo percorso perché no può iniziare anche dalla scuola materna adesso che altro ci rimane sicuramente vabbè della valutazione l'abbiamo già cancellata sapete che la valutazione è fondamentale per lo studente è fondamentale che il docente riesca insomma a valutare con equità è un valore sicuramente aggiunto alla formazione è uno strumento di orientamento sicuramente e questo lo dice Bauman lo dice Harrison William Marshall Capperucci eccetera però avevamo detto che tutto sommato ne avevamo parlato i BESS sono una categoria enorme di studenti non sono tutti gli studenti che abbiamo in classe però ormai i bisogni educativi speciali sono tanti quindi ci sono disturbi evolutivi specifici i DSA e anche la DHD è considerato un sviluppo evolutivo specifico quindi deficit di attenzione e iperattività DSA vabbè dislessia discrafia discortografia discalculia sapete come molte volte il DSA è affetto da più cioè non c'è solo la discrafia ma per esempio la discrafia la disortografia sono correlati sicuramente poi ci sono le disabilità motorie disabilità cognitive motorie e cognitive disturbi legati a fattori socio economici alunni stranieri quindi motivi culturali linguistici e anche il non conoscere perfettamente la lingua e la cultura italiana sicuramente incide su sulle difficoltà relative al comportamento e alla relazione che lo studente ha quindi la scuola in questo caso deve mettere in luce queste difficoltà trovare delle soluzioni e eventualmente adottare un piano didattico personalizzato un PDP per loro si parla di PDP poi sicuramente ci sono DAA che sono un pochettino complementari sono i disturbi aspecifici dell'apprendimento quindi capacità cognitive ridotte di grado diverso patologie e sindrome diverse e altri disturbi di tipo psicologico sicuramente tutto questo in relazione con la didattica inclusiva quindi le varie richieste tutto sommato si sono collegate tra loro quindi abbiamo detto didattica individualizzata e personalizzata bene abbiamo detto il BES ok ci manca poco ci rimane il percorso didattico il modulo l'inclusione e la dispersione sono correlate tutto sommato l'osservazione l'abbiamo detta che è il monitoraggio continuo quindi utilità didattica percorso didattico e modulo didattico allora didattica nella didattica inclusiva sicuramente è uno strumento è una soluzione per esempio in passato si usavano molto delle mappe concettuali ci sono tantissimi programmi se li conoscete dideli strumenti software compensativi possono esserci strategie didattiche inclusive modellate quindi specificatamente sulle caratteristiche di apprendimento degli studenti con DSA con studenti BES bisogna integrare e ampliare l'uso di strumenti come la LIM la lavagna interattiva multimediale che sicuramente va a eccitare quelle parti della mente che creano attenzione quindi aumentano le capacità attentive che creano anche conseguentemente anche modi scusate oggi sono distrutto attenzione e motivazione sicuramente quando si capisce c'è attenzione a quel punto la motivazione aumenta sicuramente è fondamentale fare tutto questo nella quotidianità sempre nell'ottica di quindi di essere inclusivi e che altro vi ho detto didattica personalizzata individualizzata probabilmente ancora manca l'unità didattica che essenzialmente era molto utilizzata prima che ci fossero le riforme perché essenzialmente nel 2003 con la riforma Amoratti come giustamente voi avete detto sono cambiate le modalità di fare didattica l'unità didattica essenzialmente era un modo di fare didattica precedente dove la centralità e l'unità didattica è la didattica stessa la didattica non è ovviamente quindi si svolge a moduli non è reticolare come la didattica l'unità didattica di apprendimento la centralità non è non c'è lo studente a livello centrale ma c'è proprio la didattica proprio la conoscenza il sapere il sapere in relazione alla classe di concorso quindi ovviamente non ci sono richiami interdisciplinari o multidisciplinari sono due cose diverse già ne abbiamo parlato e quindi è un modo anche frammentato di fare didattica però è anche il modo più semplice cioè se vi chiedono un'unità didattica essenzialmente dovete parlare soprattutto in maniera nozionistica cioè parlate relativamente a quello che vi viene chiesto quindi fate una programmazione un controllo del lavoro didattico cioè descrivete ovviamente e ovviamente non c'è tutta quella parte di personalizzazione di creatività e tutto quello che insomma abbiamo anche di cui abbiamo parlato relativamente all'unità di apprendimento all'unità didattica di apprendimento quindi la progettazione anche di imparare ad imparare e non si tiene cioè secondo me è anche più semplice svolgere un'unità didattica alcuni di voi mi hanno chiesto di parlare del modulo didattico che tutto sommato secondo me si parla sempre della stessa cosa sono alcune sfumature sicuramente al modulo didattico può essere associata la didattica modulare non è un errore e tutto sommato si usa anche per combattere la dispersione ci siamo levati è collegata sicuramente alla dispersione modulo percorso manca il percorso e poi abbiamo l'unità didattica l'abbiamo detta così ho cercato di rispondere a quello che mi avete chiesto poi se ci sono domande specifiche io cercherò di rispondervi il prima possibile vi chiedo scusa se non sono riuscito a fare di più quindi sicuramente il modulo didattico e la didattica modulare aiutano a combattere la dispersione e sicuramente utile nel progettare l'offerta formativa per programmare le attività il modulo quindi consente il modulo didattico di e quindi poi voi lo specificate anche in relazione a vostra classe di concorso verificare il raggiungimento degli obiettivi verifica obiettivi articolare percorsi personalizzati quindi tutto come vedete è collegato personalizzazione valutare il processo di apprendimento valutazione ricondurre a un'unità il sapere perché il sapere è unico siamo noi che per comodità e anche per facilitare l'apprendimento lo andiamo a suddividere in tante parti quindi visione olistica dai non ci scrivete visione olistica che magari alcuni nemmeno sanno che significa scrivete la che ne so il sapere frammentato di ogni classe di concorso di ogni materia poi deve essere anche rilaborato e riunificato perché poi il sapere la conoscenza ovviamente cioè non esiste un confine per cui una conoscenza è relativa a solo una determinata materia ma tutta la conoscenza in realtà è unificata quindi anche nel modulo didattico una caratteristica in modo didattico è anche la possibilità di raggiungere obiettivi collegialmente identificati di conoscenza abilità e comportamenti che cosa favorisce favorisce sicuramente l'interazione quindi voi parlerete insomma che è importante scriverete scusate che io a volte mi sbaglio ancora non ho capito in realtà non è che non ho capito è un modo anche cercare di dire l'ho capito che il concorso è scritto quindi l'interazione tra gli studenti favorisce sicuramente la possibilità di definire gli elementi della progettazione gli obiettivi le strategie gli strumenti e ci sarà sempre una fase di certificazione puntuale delle competenze il modulo è uno strumento che si usa per pianificare un intervento formativo ed è abbiamo detto verificabile documentabile e capitalizzabile il modulo sicuramente interagisce con le competenze perché gli obiettivi di apprendimento di un modulo non possono corrispondere alla somma o ad un sottoinsieme degli obiettivi di apprendimento definiti per singole unità didattiche ma nel modulo si verifiano le capacità degli allievi quindi di applicare in contesti anche diversi le conoscenze e le abilità acquisite assumere decisioni e scegliere poi la soluzione migliore quindi in situazioni operative simulate giustificando poi eventualmente la decisione da un punto di vista logico procedurale sicuramente si verificano anche le comprensioni degli studenti la loro capacità di costruire in maniera critica e argomentare discorsi per dare significato alle proprie esperienze le metodologie didattiche sono centrali e basta io direi che ho detto anche troppo ringraziamo anche tutti i colleghi che hanno mi hanno scritto e hanno condiviso le loro esperienze e mi hanno permesso insomma mi hanno facilitato anche mi hanno sollecitato a fare questo video io con questo vi saluto per coloro che sono arrivati alla fine vi ricordo di iscrivervi perché siete arrivati al 75% che guardate il mio canale ma non vi iscrivete cioè siete tanti commentate fatevi tutto però poi vi perdete anche gli aggiornamenti e poi magari mi mandate messaggio email e mi dite professore oppure Francesco mi puoi aiutare su questo e quest'altro motivo io gli dico guardate già se n'è parlato quindi conviene insomma anche anche per noi cercare di aumentare l'efficienza il rendimento di tutto quindi sicuramente se voi seguirete avrete la pazienza di seguire le varie lezioni troverete tante 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 risposte un saluto buona continuazione di studio è un grande grandissimo bocca al lupo spero davvero io sono dalla parte vostra e sono felice che ci sarà che magari ci saranno tanti nuovi contratti a tempo indeterminato ciao ciao